Allora, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, sono la strada che mi porta al re, ve lo dico veramente io con il cuore in mano, non lasciatemi da solo bimbi eh, perché io ci provo a stare là sopra a 41 ore, ciao. Signori, si inizia, fateci un cavolo di applauso. Allora, quando uno fa l'unica, qual è l'ultima cosa che fa, come sta l'unica, si gratta? C'è, la parola. Vado a Marco, Luca o Alessandro, l'ultimo, ecco io. Signori, la terza l'ora, signori, la terza l'ora, le manca solo trento. Brava Andrea! Allora, sono trentatre ore che andrei sopra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.